Grazie veramente a tutti per essere intervenuti finora e mi sembra che le promesse per una buona riuscita ci siano. Dobbiamo cogliere assolutamente anche noi tutti i suggerimenti che ci sono arrivati perché sicuramente anche se il progetto è stato programmato, comunque è un progetto che deve accogliere ed è anche abbastanza mobile, quindi comunque ha la possibilità di integrare esperienze e suggerimenti da tutti, perché fondamentalmente questo progetto si articola su due anni e quindi ha la possibilità di essere implementato di volta in volta. Per noi è importantissimo immaginare l'apprendimento durante la realizzazione del progetto. In questo senso il Lazio sarebbe stato ottimale, il centro Lazio per noi per cominciare, perché erano le tappe più vicine in cui forse era più facile intervenire. Purtroppo dobbiamo rinviare il Lazio come seconda tappa, partiremo dal Friuli in maggio, quindi senza un'esperienza pregressa di quattro settimane. Però avremo più tempo per programmare e quindi per riuscire a sperare di ottimizzare le cose. Detto questo, abbiamo un pochino di tempo per il dibattito, perché da quanto ho capito piove abbondantemente. Quindi immaginare l'uscita in bicicletta, anzi sarà l'uscita in bicicletta di chi è arrivato in bicicletta difficoltosa, per chi non c'è arrivato si salverà un po' di più. Mi dispiace perché ieri avevamo anche visto un attimo la praticabilità dell'uscita ed era interessante. Proviamo a riprogrammarla, però non sarà così conseguenziale. Era interessante perché appunto all'interno di Roma avevi un'area abbastanza semplice da raggiungere e da visualizzare, perché le tematiche erano poi poche ma abbastanza visibili. Quindi no, era interessante cominciare a vedere in campo, anche per uscire da queste mura che io cominciano ad essere opprimenti. Io ho un mal di testa. E però purtroppo... No, no, esatto. Quindi a questo punto se ufficializziamo l'annullamento della tappa di bici, adesso abbiamo un po' di possibilità per discutere assieme e quindi aprirai un dibattito. Mi dicevano che chi vuole intervenire dovrebbe venire qua perché altrimenti non è registrato, non può essere sentito e non è dall'esterno soprattutto. E quindi prego. Grazie. Mi preoccupa un po' le conclusioni dell'ultimo intervento. Che cosa vuol dire problemi di sostenibilità? No, no, va bene. Ma non è sicuramente il caso vostro, cioè loro, nel senso sostenibilità per quanto riguarda noi, perché la rete LTR Italia, che è la rete che alla fine ha organizzato questi cammini, è una rete interistituzionale non formalizzata, che non è sostenuta da un punto di vista economico dagli istituti di ricerca. Quindi diciamo che queste iniziative rientrano nelle attività di outreach, di attività di divulgazione scientifica istituzionali. Però fino a un certo punto, perché i fondi sono limitati per la ricerca scientifica di base, immaginiamoci per... Assolutamente sì. Sostenibili da un punto di vista economico e anche poi con i tempi di lavoro, molti di noi hanno, diciamo, sacrificato fra virgolette le proprie ferie, ad esempio. Quindi avere un percorso che possa istituzionalizzare anche questo tipo di iniziative, come voi appunto state facendo, partecipando a un live, ad esempio, può rendere più facile appunto la realizzazione della cosa. Niente di preoccupante però, eh. Nessuno. Una caduta in tre anni. Se avete domande da fare, venite qua, perché altrimenti non si riesce a riportare lo streaming, no? Per chi ci vede in streaming. Se qualcuno ci vede in streaming. All'ora di pranzo. Ancora domande? In realtà dovrei forse saperlo se avessi studiato bene bene il progetto, cosa che non ho fatto. Volevo qualche dettaglio per capire la cosa che vi chiedevo un po' prima. Come interfacciate, come pensate di coinvolgere la popolazione locale? Quindi sia le scuole, attività in scuola, partite, la tappa parte dalle scuole, ma vuol dire che vi seguono per qualche tratto i ragazzi? Oppure gli eventi sono all'inizio, alla fine della tappa? Perché è solo una tappa aperta alla popolazione? Insomma, capire un po' meglio come riuscite a permeare. Perché sennò rischiate un po' di passare e... Ripeto, magari è solo che non ho letto il progetto. No, no, anche se avessi letto il progetto, magari dei buchi ti rimanevano uguali. Perché alcune cose le abbiamo accennate, altre programmate... Allora, sicuramente abbiamo programmato di partire ogni tappa da una scuola, una scuola elementare, quindi in realtà non è un coinvolgimento enorme di persone, ma principalmente una classe, su quello poi abbiamo un po' cambiato, cioè il progetto non era scritto, adesso stavamo ragionando sulla fattibilità e quindi partire da un pubblico un po' più ridotto per poter avere più tempo per presentare il progetto e informare realmente. Quindi si parte da una scuola dove poi rimarrà comunque una traccia. Allora, le tracce dei percorsi rimarranno online e rimarranno quindi assolutamente disponibili. Ci sarà anche tutto un diario che rimarrà dopo i passaggi. C'è un'attività di animazione territoriale quando siamo sul territorio che viene programmato prima, cioè da noi, dai partner, per quanto riguarda l'attività ciclistica principalmente è demandata la FIAB che appunto ha una rete nazionale e per quanto riguarda invece le istituzioni, gli antigestori, le cose, questo attiene a noi del progetto sia ISPRA che Ares. Per le imprese avete sentito, cioè in particolare N3, e quindi nelle tappe brevi è rimasto, stavamo discutendo. Noi per esempio avevamo immaginato di coinvolgere il pubblico, cioè i ciclisti anche durante la tappa. Con FIAB, cioè FIAB ci sconsigliava di portare gente durante le tappe lunghe perché poteva diventare difficile, una gestione organizzativa difficile. Cioè se abbandoni le persone, anche se non le impegni, se tu dici no, io non ho nessuno, ti declini ogni responsabilità, poi abbandonare qualcuno lungo il percorso può essere difficile. A meno che magari uno non studi delle vie di uscita, come ci ha mostrato Baroncini, nel senso su un percorso in cui hai tre stazioni di treno vicine, potresti anche pensare di coinvolgere per bene. Però diciamo è una cosa che stiamo discutendo su quanto possa essere sostenibile o meno. E quanto magari è importante, perché magari consideriamo anche importante il fatto che comunque rimanga la traccia e la popolazione, cioè una traccia che può essere replicabile e poi anche tutta questa attività di raccolta dati che può essere fatta dal pubblico successivamente, anche se lì anche dobbiamo tarare bene i sistemi. Cioè noi eravamo partiti, anche noi dall'idea di fare un'app, poi abbiamo visto che c'è una ridondanza di app utilizzabili sullo stesso sistema, a partire proprio da un'app realizzata da Natura 2000, cioè dal centro di ricerca del GRC di Ispra, mi pare che ha realizzato un'app proprio sul sistema Natura 2000. Ne siamo venuti a conoscenza alla presentazione ai kick-off meeting dei progetti LIFE del 2018. Quindi noi vorremmo forse più, cioè preferiremmo promuovere app esistenti e utilizzare appunto un sistema di web mobile. Cioè quindi il nostro, il sito che si vede online è assolutamente visibile e riproducibile su un cellulare. su un cellulare. Se vuoi intervenire, prego. La scelta di partire dalle scuole e soprattutto dalle scuole di primo grado, ci auguriamo che ci consenta di portare i genitori dei bambini alla tappa del sabato, cioè motivarli perché i bambini da soli ovviamente non potranno venire. Ci auguriamo che sia un veicolo per fare numero e coinvolgere sempre più la partecipazione. Tutto da testare ma... La mia domanda è, visto che comunque si tratta di tutta una serie di percorsi che magari dovete creerete o che prenderete diciamo da altri percorsi già mappati, se avete già preso dei contatti magari con Wikimedia Italia, OpenStreetMap, perché questa potrebbe essere anche un'occasione appunto per monitorare ulteriormente questi siti o delle strutture presenti e poi costruire una cartografia con un sistema appunto di dati veramente open per eccellenza. Allora, in realtà no, ancora no, cioè pensiamo... Sì, no, sicuramente non abbiamo ancora deciso in quale forma lasciare i percorsi. Questa è una cosa che poi dobbiamo vedere magari anche con FIAB o con i nostri cartografi, cartografi, perché comunque c'è anche tutta una parte di cartografia open disponibile da ISPRA stessa, cioè gestita da ISPRA stessa. Quindi potenzialmente possiamo anche utilizzare i nostri sistemi e poi un affiaggamento. Però non... Focal point di Copernicus, quindi voglio dire gli strumenti teorici, insomma, per la condivisione mondiale, perché ci piace, ma ci stanno insomma, si tratta solo di organizzare una realtà di 1500 colleghi, siamo tanti, ma io sono convinta che ce la faremo a fare. Insomma, ci sono buone prospettive, quindi... Anche perché insomma l'ISPRA non è proprio l'ultima degli arrivati, quindi le strutture ci sono tutte. È un po' difficile il coordinamento, ma si fa. Sì, buongiorno, sono Maurizio Rosati, direttore della riserva di Laghi Lungo e Ripa Sottile, in provincia di Rieti. Il mio vorrebbe essere un contributo, non so se ho interpretato male il vostro percorso. Voi nel mese di aprile... No, perché questo è importante, perché ho visto il tracciato che passa in provincia di Rieti, che da Leonessa sarebbe al terminillo, che è impossibile, volevo dire, verosimilmente fino ai mesi di maggio-giugno sarà impossibile, per cui siccome ci terrei molto che questo percorso transitasse nella nostra provincia e magari anche nella riserva di Laghi dove abbiamo SIC e ZPS e ZSC e c'è una bella pista ciclabile, circa un, diciamo, valligiana, già tutta realizzata, quindi ci direi che passasse magari posticipando le date. Grazie. 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 Credo che questo lavoro sia fondamentale per la ricchezza in tutti i luoghi che fanno riferimento alla rete Natura 2000. L'aspetto che spero sia ulteriormente rimarcato è quello che riguarda un po' la trasformazione tra i SIC, ZPS, ZCHS e la comprensione del valore che attualmente è stato acquisito anche nelle varie realtà locali. Adesso però deve essere trasformato in un valore, diciamo, accogliente, positivo in termini anche di ripercussioni economiche, perché poi il rispetto alla natura fortunatamente scatena anche aspetti positivi anche a livello economico. Quindi io spero che insieme al lavoro dell'ISP ci sia l'affiancamento anche del Ministero per aiutare a capire meglio questo passaggio che dovrebbe in teoria essere automatico ma ha bisogno di contatti, di comunicazione, di informazione. Quindi spero che oltre tutto quello che avete riccamente impostato ci possa essere anche questo elemento che credo sia strategico anche per il futuro della rete complessiva. Grazie. È proprio l'obiettivo di base, quindi speriamo di raggiungerlo. Ce l'auguriamo. Insomma è stato tutto costruito su quello. Speriamo. Ce l'auguriamo. Se posso una piccola cosa sui percorsi. Sono stati studiati con ISPRA e con FIAB, anche ora non era il tempo, non era il caso lungo, quella che è la rete bicitale. Bicitale è brevemente la rete di percorribilità ciclistica a livello nazionale, soprattutto cicloturistica. Il più possibile siamo andati a seguire quella. Il che significa il più possibile stare su strade a basso traffico, percorribili da ciclisti e dove è possibile, come nel caso della riserva che diceva il signore prima, all'altezza del Terminillo, anche le piste ciclabili che ci sono. Quello che ci interessa è che poi il percorso sia fruibile non dal ricercatore volenteroso che è un ciclista appassionato e per cui fare la salita nel Terminillo non è un problema, o attraversare gli appennini anche dal lato campano è comunque una cosa faticosa ma che riesce a fare. Quello che ci interessa è che poi siano le persone normali, la popolazione, i bambini per l'appunto, che riescono poi a convincere i genitori, oggi non mi portare in sala giochi, oggi andiamo a vedere quell'area protetta e ci andiamo in bicicletta. Non è una domanda ma un'annotazione che mi veniva in mente dopo l'intervento di N3 e la filiera delle aziende è il 2018 e l'anno del cibo italiano, valorizziamolo perché si attraversa una serie di territori dove ci sono un sacco di DOP e GTP.